Il procuratore di Perugia, Raffaele Cantone, ha chiesto al CSM di aprire una pratica a tutela dei magistrati della sua città. È una forma delle iniziative della magistratura, si chiama pratica a tutela quando un magistrato è sotto tiro per qualche ragione da parte di qualcuno e invece bisogna proteggerlo perché possa stare tranquillo. In genere se apre una pratica a tutela è un vantaggio per la carriera del magistrato che nel curriculum scrive che è stato perseguitato da qualcuno. Perché Cantone ha aperto questa pratica a tutela? Contro di noi, contro il riformista. Perché il riformista ha riferito nei giorni scorsi con gli articoli di Paolo Comi di alcune cose che non funzionano nel Palamara Gate. Ha raccontato tre cose. Prima tutti i Whatsapp presi nel telefono di Palamara nel maggio del 2019 sono arrivate al CSM quasi con un anno di ritardo. Nel frattempo il CSM aveva fatto molte nomine, quindi il CSM non ha avuto il materiale per giudicare. Siccome sapete che in questi Whatsapp c'erano i nomi di decine, di centinaia di altri magistrati, questi nomi non sono arrivati al CSM. Non si sa perché. Secondo, questo Cantone lo contesta, a noi risulta che nel fascicolo a carico di Palamara non ci siano, basta guardare l'indice elettronico, e non ci sono gli SMS. Anche questi sono stati, perché è stato sequestrato a maggio del 2019 il telefono di Palamara, sono stati scaricati sia gli Whatsapp sia gli SMS, però gli Whatsapp sono stati tenuti fermi quasi un anno. Gli SMS al nostro giudizio non ci sono. Abbiamo chiesto a Palamara, ha detto che anche lui non ne ha notizia. A lui non risulta che siano nel fascicolo questi SMS. Il Cantone dice di sì, però ci torna a dire dove li ha messi. Terzo, gravissimo, abbiamo denunciato il fatto che il Trojan, sapete cos'è il Trojan? È la spia che viene messa nel cellulare di Palamara, viene messa in qualunque cellulare, in questo caso il Trojan di Palamara, che funzionava tutte le sere, credo dalle sette in poi, perché gli inquirenti quando l'hanno messo sotto osservazione, che è la fonte, questo Trojan poi è la fonte del Palamara Ghetta, è il motivo per cui è stato cacciato dalla magistratura, eccetera. Questo Trojan funzionava tutte le sere, una sola sera non ha funzionato. Ed è la sera in cui Palamara è stato a cena con Pignatone e con altri magistrati, non sappiamo i nomi degli altri magistrati importanti, pare, non probabilmente, più che probabilmente per discutere della nomina del nuovo procuratore di Roma, fu spento e noi abbiamo detto da chi fu spento, come fu spento, abbiamo provato che è stato spento intenzionalmente, che sono state intralciate in questo modo le indagini. Ora voi vi aspettate che qualcuno intervenga e apra un'inchiesta su questa nostra denuncia, invece non è stata aperta nessuna inchiesta e Cantone ha chiesto che invece intervenga il CSM per censurare il riformista. Tenete conto che ormai sono gli stessi magistrati a ribellarsi, c'è stata recentemente una lettera di una cinquantina di magistrati a Palamara in cui chiedono a Palamara rendi dei noti te gli sms e i whatsapp, visto che la magistratura non lo fa. C'è una sfiducia da parte addirittura dei magistrati, figuratevi dei comuni cittadini, verso la magistratura che viene ritenuta non credibile, non attendibile, è una cosa gravissima, è un segno di crisi gravissima. però Palamara prende invece questa iniziativa, no Palamara scusate, Cantone prende invece questa iniziativa di chiedere che si attacchi direttamente il riformista, cioè che si affermi il principio che in Italia la libertà di stampa deve avere un limite, il limite che si possono criticare tutti ma non i magistrati e che si possono dare notizie di ogni genere ma non notizie riservate sulla magistratura che possano mettere in discussione la credibilità e l'onorabilità della magistratura o di singoli magistrati. Questo è il principio che vorrebbe affermare Cantone, penso anche con una riforma costituzionale. Naturalmente io mi auguro che l'ordine dei giornalisti intervenga, non può non intervenire di fronte a un attacco così violento alla libertà di stampa, credo con pochissimi precedenti, forse c'è qualche precedente negli anni Ottanta, ma non conoscevo precedenti di questo genere. Qual è lo scopo di questa iniziativa? Io non ne vedo altri, l'unico scopo può essere quello di intimidirci, così come spesso il riformista viene intimidito dai magistrati attraverso le querelle. Recentemente ho fatto un elenco di magistrati che mi hanno querelato, da Di Matteo a Davigo, a Esposito, a Gratteri, tutti i bei nomi della magistratura, ce li ho quasi tutti fra i miei querelatori. e voglio dire a Cantone che io tenderei anche per carattere mio a farmi intimidire, perché poi non è che penso, io non ho mai pensato che la grande dote sia il coraggio, il coraggio è, figuratevi, no, non tendo più a Don Abbondio, però sapete c'è una questione, in Italia c'è un solo giornale che critica la magistratura, ce n'è uno solo, un solo quotidiano che critica la magistratura e siamo noi, e quindi non mi posso permettere il lusso di farmi intimidire, perché se ci stiamo zitti pure noi, si crea una situazione di assoluta, proprio si crea il regime, una cosa simile a quella che sta chiedendo ora Cantone, in Italia c'è stata solo durante il fascismo.